Assessore Lino Albanese, 180 mila euro, un appalto che Navita sta gestendo, che a sua volta ha subappaltato delle cooperative per la gestione del verde pubblico, della potatura. I sindacati sono intervenuti e sono sul piede di guerra. Per quale motivo, qual è la situazione? C'è da fare una digressione su quelle che sono le notizie che oggi stanno girando. Anche queste notizie non rispondono in realtà a quelli che sono i fatti. Navita gestiva, oltre alla nettezza urbana, anche il servizio di verde pubblico fino al 31-12-2014. Dal 1 gennaio non gestisce più Navita, ma lo gestisce direttamente all'amministrazione comunale. Avevamo l'amministrazione, queste cose risalgono all'epoca Santarelli, forse fine mandato Santarelli. L'amministrazione di allora aveva deciso di allargare l'appalto di Navita con il servizio di verde pubblico. E costava in realtà le casse comunali non 180 mila come qualcuno dice, ma 125 più 125, sotto i 250 mila euro. Noi, secondo questi sindacati, abbiamo mancato nella stabilizzazione. In realtà non è così. Oltre al fatto che voglio ricordare a questi sindacati e sindacalisti che sono questi problemi nati vent'anni fa e non capiamo loro dove erano. Si chiedono a noi la soluzione. Posto questo, l'amministrazione comunale si è impegnata chiedendo la salvaguardia dei livelli occupazionali per questi dipendenti, a tutte le aziende che hanno fino ad oggi partecipato alle procedure negoziate, perché comunque qualsiasi lavoro che è stato fatto è stato affidato con procedure negoziata. Ovviamente questa è una cosa che ci viene consentita, la salvaguardia dei livelli occupazionali, fino a quando riusciamo a gestirla noi internamente. Oggi, perché loro fanno riferimento al fatto, strumentalizzando questi stessi lavoratori, perché li stanno strumentalizzando, perché altrimenti in 20 anni avrebbero potuto risolvere il problema, loro chiedono all'amministrazione comunale di stabilizzarli, cosa che non è possibile fare, perché tutti sanno che un'amministrazione comunale non può assumere personale, perché purtroppo è il patto di stabilità, le leggi non ce lo consentono, noi non possiamo stabilizzare nessuno.